Secondo incontro per il ciclo letture primarie, ognuno dei quattro candidati si presenta e si racconta attraverso la scelta di un libro. Mario Lucini ha scelto Il sergente nella neve di Rigoni Stern, perché? Ma perché è forse il primo libro da adulto che ho letto da ragazzino ed è anche il libro che ho riletto più volte, cogliendo sempre qualcosa di nuovo. Ma quali aspetti del suo carattere questo libro può in qualche modo rappresentare? Più che del carattere penso che contenga molti valori e molte indicazioni formative per la crescita di una persona. Il mantenere l'umanità anche in condizioni disumane, l'attaccamento alla terra e le proprie radici e il senso di responsabilità verso i propri vicini, i propri simili. Tra il lavoro e gli impegni politici, Mario Lucini trova tempo per leggere? Non sempre, ma un libro sul comodino ce l'ho sempre. A volte dura di più, a volte dura di meno. D'estate si riesce a guadagnare un po' di tempo. Grazie.